Siamo qua all'interno dell'Ariston, quindi ci ritroviamo con Clara perché ci siamo visti anche a Sanremo Giovani, dove abbiamo festeggiato insieme sul palco. Cambia qualcosa ora, vero? Assolutamente sì. Prima di tutto io non ero mai stata all'Ariston, quindi vederlo durante le prove, rivederlo oggi è stato emozionantissimo perché ero abituata a vederlo da casa. Per il resto, guarda, sono... ho i brividi. Diamanti Grezzi parla di fragilità, quindi per cantare un pezzo di questo genere bisogna un po' averlo vissuto, bisogna esserci passati anche per essere credibili. Tu che lavoro hai fatto su te stessa? Ma io penso che sono molto giovane, devo farne ancora, devo imparare tantissimo. Quello che posso dire è che a volte mi sono posta dei paletti io stessa e forse questa era la cosa più sbagliata, no? Però penso faccia parte dell'adolescenza, poi magari le persone più grandi di me possono dirmi se è così, no, non è così. Però insomma penso ci accomuni un po' a tutti, no, questi momenti di fragilità dati da una cosa o dall'altra. Serata dei duetti, tu con chi sarai e perché hai fatto questa scelta? Ho scelto di portare con me Ivana Spagna con Il Cerchio della Vita perché, beh, lei è un'artista super, super umile di tutti, c'è, non so cos'altro dire. E poi perché mi rimanda molto alla mia infanzia ed è una canzone con un grande significato. Il tuo look per quella serata sarà un po' ogni 80 oppure... Sì, non dirò nulla! Il colore, qualcosa... No! Neanche lo stile? No! E allora ci devi dire comunque qualcosa adesso, in cambio ci devi dare qualche cosa. Il trucco, il trucco, il rossetto rosso non è ancora deciso. No, allora, posso dirlo? No, rossetto rosso. Ok, vabbè, qua procediamo a piccoli passi. Procediamo a piccoli passi, allora è sempre un piacere rivederti e un grosso in bocca al luce. Ciao, grazie. 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 Grazie.